No, 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 mi la avete promessa, lo voglio. Tengo, cosa c'è? Joy! Joy? Si, oh è tanto goloso. E' tanto goloso? Si, presto passate per andare. Bisogna che vi riviva assolutamente. Telefonirvi. Si, voglio via a loro? Oh, no, via, 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 via. Joy, link, link. Perchè da me? E' un banchier. E' un banchier? Si, si, si. Sì, sono il mio figlio, mia moglie. No, no! Tu ti sorrisci! Non! Non, non! Voi è il l'anima? Voi è il l'anima? Voi? Voi il l'anima? C'è un po' di me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.